E' affetto da priapismi, credo. Fanno erigere. Devo fare erigere? No, un po' dello roffo si prende. Si è un po' che si prende, questo sì, sì. L'option è la versione. Velocissimo? Sufus? Sì. Sufus? Sì, buono. A un piede. Ora sono stati due modelli. In davanti nel palco da casa, molto meglio le case, arrivo ad Alessandria con la cosa dell'occhio realizzata, praticamente si è staccata da parte del camera. C'è sotto il braccio che si è spaccato e non presa il volo, perché è speso l'avattacca perché avete delle infezioni. Sì, no, non c'è. Sì, no, non c'è. Sì, no. Sì, no, non c'è.